70 anni di lavoro, di cooperazione, di vicinanza ai territori, li ha celebrati la GCI, l'Associazione Generale Cooperativa Italiana, a Roma con un evento che ha ripercorso la storia della cooperazione in Italia. Un'associazione, la GCI, nata nel dopoguerra per rilanciare l'economia il lavoro del Paese e che ancora oggi, dopo le crisi determinate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, si ripropone in sinergia con il sistema cooperativistico come strumento di sostegno dell'occupazione e agente di promozione delle politiche per il welfare. Lo testimonia la presenza, alla celebrazione del settantesimo di AGCI, dei presidenti nazionali e degli altri due grandi movimenti cooperativi italiani, Conf Cooperative e Lega Coop, Maurizio Gardini e Mauro Lusetti, tutti uniti nel nome del valore fondante della cooperazione sancito dalla Costituzione della Repubblica. Le tre sigle hanno costituito infatti l'Alleanza delle Cooperative Italiane come il coordinamento nazionale delle associazioni più rappresentative della cooperazione italiana. Attenzione alle tematiche di genere nel lavoro, sguardo rivolto alle esigenze dei giovani, anche attraverso una consulta dei giovani cooperatori e forte riferimento alla coesione territoriale. Sono stati questi i punti fondanti dell'intervento del presidente nazionale di AGCI, Giovanni Schiavone, che ha anche ricordato tutti i punti di confronto aperti dal movimento cooperativo con il governo. Sulla coesione territoriale e sull'importanza del confronto con il mondo delle cooperative si è soffermata anche la Ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenuta per portare il saluto del governo. Apriremo un tavolo di confronto con il mondo cooperativo per le riforme del settore, ha annunciato la titolare del Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha anche posto l'accento sulla riforma del reddito di cittadinanza che il governo intende introdurre. Il lavoro deve tornare ad essere il principale strumento di inclusione sociale, ha detto la Ministra, che ha poi sottolineato il valore della cooperazione come modello di riferimento per il rilancio dell'occupazione e per l'attenzione ai territori. Grazie a tutti.